Musica Con i festeggiamenti di Natale a Torino arrivano anche le polemiche Carlo Casalegno ha 40 anni dalla scomparsa il ricordo della città Taglia l'istruzione, la protesta degli studenti torna al Politecnico Torino al via la prima edizione di Birra Facendo, il festival della produzione artigianale Buongiorno e ben ritrovati con le informazioni di Futura News Il studio è Cristina Palazzo e Massimiliano Mattiello Nel 2018 Torino avrà un calendario con circa 230 eventi fra etnogastronomici, culturali e sportivi Ma tornano le polemiche per un Natale con i fiocchi, il punto, nel servizio di David Trangoni Piazza San Carlo è stata una ferita per tutti Ha determinato un cambiamento sostanziale nell'organizzazione degli eventi Si sono capite tante cose La Torino ferita riparte dagli eventi La sindaca Chiara Appendino ha presentato martedì in comune insieme agli assessori Sacco e Leon Il calendario delle manifestazioni cittadine per il 2018 Grandi ritorni come il Jazz Festival e nuovi ingressi come la Bocuse d'Or, competizione per chef Un calendario fin troppo fitto, dice l'opposizione Sono inseriti anche eventi organizzati da associazioni, da enti, da fondazioni, mi viene in mente il Torino Pride, quindi la marcia del Torino Pride, la Trans Freedom March, che non sono di competenza di organizzazione diretta della città di Torino Eventi che suscitano polemiche, mentre Cioccolatò latita ancora le casette di un Natale coi fiocchi non sembrano trovare pace Dopo gli sgomberi del 2016, quest'anno nuove nubi si addensano sulla gestione del bando per i mercatini Vinto di nuovo dai medesimi soggetti, che non si sono fatti mancare un simbolo fascista sul logo Onestamente io non so come saranno i mercatini di Natale, ho visto il progetto, ho parlato con il responsabile del comune che se ne occupa Sulla carta è un progetto molto bello e qualitativo, poi come viene realizzato onestamente non lo so Un convegno per onorare la memoria di Carlo Casaregno, indimenticato giornalista vittima delle Brigate Rosse nel 1977 Il racconto di Valerio Barretta Carlo Casaregno sta rientrando a casa, è senza scorda, qualcuno intanto è in attesa Quando Casaregno entra nel palazzo, lo segue sino al fondo dell'androne, estrae la pistola e spara Quattro colpi, la morte dopo 13 giorni di agonia Questo è il filmato con cui viene ricordato Carlo Casaregno, storico vice direttore della stampa 40 anni dopo la sua morte per mano delle Brigate Rosse L'occasione nel convegno il giornalismo nell'era della sfiducia tenutosi mercoledì 29 novembre al campus Einaudi Un tentativo di recuperare la lezione di Casaregno in una professione attanaiata dalle fake news Presenti la sindaca di Torino Chiara Appendino, il rettore di Unito Gianmaria Aiani ed Enrico Mentana Ecco secondo lui la qualità di Casaregno che più serve agli aspiranti giornalisti Non aver paura, la schiena dritta, l'avere delle proprie idee solide ma non volerle imporre Usarle come lente per saper riconoscere alla realtà i fenomeni secondo un soggettivo punto di vista Docenti, studenti e anche ricercatori, il mondo dell'università si compatta contro i tagli all'istruzione Ce ne parla Lucrezia Clemente Tornano in piazza studenti, professori e ricercatori chiedono più fondi per l'università In queste ore in cui al Senato è in discussione la legge di bilancio Al Politecnico la protesta è partita a luglio dai professori che chiedevano lo scatto stipendiale Ha poi coinvolto trasversalmente il mondo accademico di tutta Italia Meno docenti, meno fondi per il diritto allo studio e ricercatori precari E il quadro dell'università dopo la riforma Gelmini La questione universitaria a livello nazionale vive una situazione di definanziamento ormai consolidato E quindi era davvero ora di muoversi tutti insieme sotto questo punto di vista Non disperdendo le energie, muovendoci contro un interlocutore comune che è il governo E' la legge di bilancio attuale Secondo i dati Oxel, l'Italia è tra gli ultimi paesi in Europa Per numero di laureati, ricercatori e risorse impiegati nella ricerca e sviluppo Male anche i dati sull'occupazione con l'unica eccezione del Politecnico Miglior Ateneo al mondo per trovare lavoro Siamo l'ultimo paese europeo per percentuale di studenti laureati tra i 25 e i 34 anni E non siamo neanche molto vicini alla media Nel senso che in Italia abbiamo una percentuale di studenti laureati del 26% A fronte di una media europea del 42 Il fatto che il Politecnico sia messo sia di fatto un'isola felice dell'Università Italiana Sia un elemento che aggiunge valore a quella che è la mobilitazione nata al Politecnico Che soprattutto qui al Politecnico è fiorita in maniera così importante In ordine di trasversalità tra tutte le componenti della comunità accademica Parliamo ora della vita di quartiere in città nel nostro blocco di brevi Con Federico Parodi, Emanuele Granelli e Camilla Cupelli Il Consiglio regionale dà il via libera al trasloco in tre fasi dell'oftalmico di via Iuvar al San Giovanni Bosco e alle Mollinette Nel piano sarà coinvolto anche il Maria Vittoria come annunciato dall'assessore regionale alla sanità Antonio Saitta Proteste davanti a Palazzo Lascaris da parte di alcuni cittadini e membri dell'opposizione Le vallette si colorano di rosso per dire basta alla violenza contro le donne Da Piazza Montale al mercato di Corso e Cincinnato Decine di persone hanno sfilato per le vie del quartiere Ricordando storie di donne vittime di abusi Vogliamo camminare per le nostre strade senza paura Oggi l'abbiamo fatto e lo rifaremo finché sarà necessario Siamo donne Corpi, umani, organi, muscoli e arterie sono protagonisti della mostra Human Bodies di Exhibition inaugurata il 25 novembre a Torino alla promotrice delle belle arti Un viaggio alla scoperta del funzionamento del corpo umano in un'esposizione realizzata con corpi veri donati alla scienza Oltre 150 organi sono infatti conservati con il metodo della plastinazione La mostra resterà in città fino al 25 febbraio Sapori, colori e schiume dalle sfumature tutte diverse Appassionati amanti della birra artigianale hanno affollato il lingotto per Birrafacendo Le curiosità nel servizio di Martina Meoli Tubi, cilindri, serpentine e termometri Non è il nuovo kit del perfetto idraulico Ma l'attrezzatura è indispensabile per fare la birra in casa Torino ha accolto la prima edizione di Birrafacendo Manifestazione dedicata alla produzione artigianale Di una bevanda alcolica che mette d'accordo un po' tutti Tre giorni all'insegna di degustazioni, lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche Che hanno raccolto all'ingotto fiere decine di curiosi e mastri birrai Che fossero rosse o bionde a base di spezie, miele o castagne Sugli ingredienti base non v'è alcun dubbio Acqua, malto, lupolo e lievito Ma far la birra non è mestiere semplice Soprattutto per chi di esperienza ne ha ancora poca La passione non basta Insieme ad una buona tecnica e molta pazienza Occorre uno studio e un investimento di partenza E se la produzione homemade non fa proprio per tutti Birrafacendo ha riservato anche ai meno audaci angoli di relax Abbandonati in mestoli, pentole e appunti Largo ad assaggi e brindisi Chissà che la voglia di fare il birraio non venga bevendo Era questa la nostra ultima notizia Per tutti gli aggiornamenti Seguiteci sui nostri canali Facebook, Twitter, Instagram E sul sito www.futura.news Grazie per essere stati con noi Un saluto da Cristina Palazzo E Massimiliano Mattiello Un saluto da Cristina Palazzo Grazie per essere stati con noi